la stagione scorso non è stata proprio semplicissima purtroppo ho avuto troppe volte influenza però non volevo neanche lasciare così perché comunque c'ho ancora la passione mi piace ancora far fatica e farmi tirare il collo dai giovani ormai perché sono tutti cuccioli e niente alla fine c'è ancora la passione per il biglietto quindi alla fine sono un anno e mezzo a poco di più e cercherò di tenere duro anche se non è semplice però dai la stagione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.